Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti di opinione di Lox, il canale per i veri malati di sport. Stasera parliamo di pallacanestro, gara 6 della serie finale tra Olimpia e Virtus Bologna. La serie si è conclusa perché l'Olimpia-Milano ha vinto in maniera piuttosto netta questa sfida per 81-64 e ha conquistato il titolo di campione d'Italia, portandolo via succedendo nell'Albodoro, proprio alla rivale diretta Virtus Bologna. Prima di entrare nel vivo del video, like se vi dovesse piacere, grazie, grazie per iscrivervi al canale, benvenuti ai nuovi iscritti, tantissimi degli ultimi giorni e grazie infinite per il sostegno che hai dato al mio canale. L'Olimpia ha completato il lavoro, l'ha fatto in maniera molto chiara, vincendo una partita che di fatto è durata molto poco, l'intensità iniziale della gara è stata totale, l'Olimpia era subito messa sui propri binari, il coach Scariola, la Phil Jackson con i Lakers di una volta ha aspettato a chiamare il primo time-out e ha lasciato andare un po' già la squadra di Messina, poi il primo quarto si è concluso sul 29-16, ovvero è stata una partita molto simile a gara 3, la prima delle due disputatasi a Milano prima di adesso, però con la differenza che allora la Virtus era riuscita a rispondere anche da un punto di vista offensivo, cosa che oggi non è assolutamente riuscita, c'è stato un pochino di avvicinamento da parte della squadra bolognese nell'arco di un secondo periodo vinto per 14-20 che ha portato all'intervallo lungo con 7 punti di scarto, ma poi in apertura di terzo quarto è stato ancora Milano ad andare via con uno dei tantissimi break e parzialoni potenti che la squadra di Messina è riuscita a mettere in questa serie e che ha allargato a dismisura il margine tra le due squadre, ripetuto poi in avvio di quarto quarto quando Bologna ha segnato tipo un punto in 5 minuti. Non c'è stata quindi partita, l'Olimpia ha vinto veramente con grandissimo merito, ha vinto una serie nella quale è stata più forte da un punto di vista mentale, è stata più forte da un punto di vista fisico, la squadra del Milano chiaramente aveva, diciamo non si può dire che fosse una stagione negativa, perché comunque la Coppa Italia l'ha vinta e i play-off di Eurolega li aveva fatti, aveva bisogno di vincere sicuramente il campionato, la Virtus del conto suo ha raggiunto nell'arco dei due anni gli obiettivi perché ha vinto l'Eurocup e quindi accede all'Eurolega, ha vinto già anche un titolo, probabilmente ha invertito negli anni i due risultati, sicuramente la squadra di Bologna deve mettere, deve abituarsi a un tipo di gioco che quest'anno ovviamente non ha conosciuto perché l'Eurocup è una manifestazione molto diversa. Anche oggi l'Olimpia ha messo un tipo di intensità e di voglia, di fame anche da un punto di vista proprio mentale alla quale probabilmente la Virtus semplicemente un po' per non esperienza di retta di questa stagione, un po' per tantissima stanchezza, non era ancora abituata. Percentuali da tre punti uguali, 35-36, dalla Lunetta al 100% per Milano con 8 tiri liberi, l'85 per Bologna, 17 su 20, meno male che Bologna ha realizzato tanti tiri liberi perché dal campo ha segnato solo 19 canestri e ha perso 18 palloni. E già in questo dato c'è un po' tutto quello che è stata la partita da un punto di vista del suo sviluppo. Milano ha tirato con il 56 da 2, Bologna solo con il 42. Quindi non ci sono stati in realtà 32 canestri di Milano e 19 di Bologna. Non c'è stato nessun elemento, oggi proprio Bologna credo non abbia mai avuto una possibilità di vincere questa partita. MVP di giornata direi che se lo possono spartire in tre, Shields in 32 minuti, 15 punti, 7 su 13, 19 di valutazione, soprattutto nel primo tempo dove aveva segnato 13 punti e 2 nella ripresa, Ciaccio Rodriguez partitone, 26 minuti, 12 punti, 5 su 9, 8 assis per lui. E poi stavolta ha giocato una gran partita da Tome. Quindi Shields e da Tome che hanno giocato male la partita precedente. Ho avuto quasi un po' l'impressione, la gara 5 penso sia stata strepitosa, rimarrà comunque la partita più intensa della serie. Però alcuni giocatori di Milano hanno quasi come preso un turno di riposo, tipo appunto Shields piuttosto che da Tome, e hanno dato il colpo di grazia in questa partita. Da Tome in 30 minuti, 23 punti, 7 su 16, 20 di valutazione. Ancora bene Grant, decisivi Ainz e Benti sotto canestro, Bologna parlando dei singoli, devo dire mi è piaciuto per la combattività che ci mette sempre, i 19 minuti di Hackett, 6 punti, 2 su 3, sempre da notare. E poi Alibigovic che è entrato abbastanza presto nelle rotazioni, per lui 11 punti con 4 su 10, nel complesso una partita discreta. Sono mancati anche oggi Bellinelli, 2 punti, Paiola, 2 punti, Wims, 2 punti, Cordini, 2 punti. La Virtua è stata bravissima a vincere due partite in questa serie, perché per l'aspetto fisico soprattutto è stato un po' come la finale dell'anno scorso, a parti invertite, per cui troppi giocatori della Virtua sono mancati in questi confronti finali. Cioè T9 punti, 7 rimbalzi, ma deve salire tanto di livello per poter competere con un Ainz. Samson 6 punti, senza neanche un tiro dal campo, tutti dalla lunetta. La fisicità credo sia stata la chiave di questa sfida, l'Olimpia ha strameritato lo scudetto, credo anche che abbia centrato il fatto che coach Messina abbia sicuramente battuto coach Scariolo nel confronto diretto, sia da un punto di vista delle rotazioni, sia da un punto di vista delle soluzioni tattiche. Per esempio JT aveva dominato gara 5, oggi Bologna non è più riuscita a passare la palla sotto in zona A, in area, quindi credo che in generale le scelte anche della panchina, le scelte degli staff, siano state superiori da parte della squadra milanese. Quindi direi che nel complesso il campionato va alla squadra che merita, che l'ha meritato, soprattutto in questa serie, è giocata molto molto bene. Tantissimi complimenti a tutte le due le formazioni per aver raggiunto comunque gli obiettivi di questa stagione. Ora vedremo col mercato come cercheranno di prepararsi l'anno prossimo, tutte e due in Eurolega, quindi prepariamoci a scontri ancora più di livello, perché anche la Virtus salirà e quindi riusciremo a vedere ancora più pallacanestro di grande livello tra queste due squadre. Grazie a tutti i ragazzi per avermi seguito durante queste finali, vi ringrazio veramente di cuore, grazie per avermi seguito anche durante questa stagione di pallacanestro, seguiremo comunque magari qualcosa ancora della nazionale, altrimenti l'appuntamento poi con il basket va a settembre. Grazie a tutti, un bacio, iscrivetevi al canale, ciao da LOX.